Intanto grazie per l'invito all'autorità e misura internet io personalmente lo ho molto a cuore anche perché a questo punto bisogna autolodarsi però è nata dall'attività voluta da DiConsum, è nata dal 2005, noi abbiamo portato avanti con forza denuncia della situazione all'ora della vendita dei contratti internet che erano veramente vendita ingannevole perché si prometteva tutto e di più e non corrispondeva nulla e dopo questa pressante campagna di denuncia all'epoca eravamo soli devo dire la verità perché DiConsum è stata la prima ad avere un settore dedicato alle nuove tecnologie poi vennero dietro ovviamente le altre associazioni e la lungimiranza dell'allora authority ha permesso di dialogare su questo argomento, un dialogo lungo come diceva anche il direttore Frullone, io ricordo che ci sono stati quasi un anno e mezzo di incontri, incontri ai quali hanno partecipato veramente tutti e devo essere onestamente devo dire che non ero convinto che si arrivasse alla fine perché naturalmente gli interessi erano molti anche perché questa best practice nasce perché c'era comunque una cattiva pratica da parte di chi vendeva, questo bisogna dirlo, quindi sicuramente Misura Internet ha risolto un po' di problemi perché comunque ha messo fine alla cattiva abitudine di fare una vendita scorretta e quindi questo è lodevole. Se non c'era però forse la necessità era ancora meglio, vuol dire che tutti quanti trasparentemente vendevano ciò che avevano, però evidentemente non era così, però benvenga perché abbiamo permesso, l'abbiamo visto dal convegno di oggi, abbiamo permesso anche di mettere su in piedi un sistema che altri pure ci invidiano e che molto probabilmente ci copiano. Sicuramente come diceva stamattina la domanda di Barberio era giusta? Ma perché non si fa un sistema che automaticamente controlli sempre? Perché il controllo comunque, visto che l'autorità è anche un'autorità di garanzia quindi di controllo, non dovrebbe essere richiesto ma dovrebbe essere d'ufficio. Sicuramente non sarebbe l'optimum perché darebbe più garanzie ma è stato anche detto che tecnicamente non è facile perché su questa materia onestamente ci vuole la cooperazione di tutti, una cooperazione che c'è stata e naturalmente è uscito fuori però misura internet un po' di compromesso, cioè non è la perfezione, non per niente è fatta in FTP che è una misurazione che fa un po' lasciatemi passare il termine, un po' ridere visto che lavoriamo tutti in HTTP e sappiamo che facendolo, meno male che ho sentito che si correggerà e quindi si userà per fortuna l'HTTP, tutti i speed test che usiamo regolarmente sono su questo tipo di linguaggio e sicuramente portano un po' al ribasso anche quei dati che abbiamo sentito che non è che proprio ci rendono i primi in Europa come velocità. Teniamo per buono l'HTTP ma sappiamo che forse stiamo ancora un po' più in basso e quindi devo dire la verità io quando ho qualche ingegnere che ci dà una mano nell'associazione gli ho dato l'analisi di questo nemesis, mi ha fatto una testa così, ma di che stiamo a parlare? È un giovane quindi diciamo quasi un nativo digitale, fate una misurazione che in realtà poi non è reale però ho superato questo e anche perché ho capito che sicuramente andremo a cambiarla. La cosa per entrare subito in proposte, come facciamo normalmente noi dell'associazione dei consumatori, sicuramente funzionerebbe tutto meglio se si rimette mano alla delibera, perché forse la delibera è un po' deboluccia. La delibera dovrebbe prevedere non solo che l'utente possa recedere diritto che ha già acquisito dalla Bersani ed è un diritto che ha sempre di andarsene quando vuole. Sappiamo che forse l'autorità si rivolge a quelle famose e stiamo lì anche a discutere, pseudopenali, cioè i costi di disattivazione, però sicuramente qui ci troviamo di fronte quando il certificato esce e non è garantito quello che era stato venduto. Non basta dire te ne puoi andare oppure ti correggo il tiro, mi sembra un po' riduttivo, soprattutto dopo tanti anni. Visto che oggi abbiamo anche la delibera che prevede i rimborsi automatici e forse appena scatta un pochino di inadempienza da parte contrattuale, da parte di un'azienda, un qualcosa di automatico forse dovremmo prevederlo e se l'autorità ha i dati come ce l'ha la fondazione Bordoni è recidiva quell'azienda è forse anche una sanzione perché il punto anche che dobbiamo riflettere e non è da poco è legato alla modalità di come si vende il prodotto. La delibera prevede quando andiamo a contestarla sui minimi garantiti e non sul massimo. Questo comunque ha fatto alzare i minimi e infatti da quando c'è misura internet la qualità del servizio è migliorata e devo ammettere anche io come associazione sono diminuite le lamentele sulla qualità percepita, però forse se andassero a misurare si accorgerebbe che non è proprio corrispondente ai 20, 100, 10 e tutte le pubblicità che noi abbiamo. E guarda caso facendo un'analisi delle dichiarazioni delle stesse aziende che non mi guarderanno storto è esattamente quasi sempre il 50% della velocità massima e quindi adesso si spiega come ci diceva il professor Decina che il nostro rapporto è sempre al 50% di quello che è promesso. Eccolo lì, giustificato perché giustamente uno si rimette al ribasso, se prometto 8 mega e il mio minimo è 3, sto a posto, perché dare 8? Do 3. E questa la dice lunga. O meglio, se questa è la nostra rete perché di più con gli investimenti, con la rete che abbiamo e con le capacità che abbiamo non possiamo e vendiamo 3. Cioè nella pubblicità, nell'associazione consumatori vorremmo vedere ecco a te la All Inclusive a 3.5 perché questa è quella che ti do di sicurezza. Poi più piccolino potrai arrivare anche fino a 20 mega perché io ho queste capacità. E posporre, cambiare, ma io non credo che sto chiedendo niente di astruso, sto dicendo di dire con trasparenza la verità. Perché anche quei dati, e Flaviano lo sa perché ogni tanto ci lamentiamo al tavolo tecnico, quei dati di comparazione che non appaiono con facilità sui siti o sui volantini o sui pieghevoli delle aziende. Perché sull'azienda il prodotto viene definito 20 mega, 8 mega, 10 mega, 100 mega e tutti i numerini che vogliamo. Poi c'è l'asterisco, poi bisogna andarsela a leggere piccolino piccolino. Ma quel dato di comparazione che poi invece ti serve quando vai a fare il Nemesis e lo scopri se vai a cercare dopo tanti clic in un sito perché ti devi fare riferimento a ciò che normalmente sta legato alla carta dei servizi, quel tipo di contratto prevede come impegno da parte dell'azienda. Insomma, quindi siccome questa è legata alla delibera, non al sistema, il sistema di controllo è ottimo, forse se ci rimettiamo seduti dopo un po' di anni e rimettiamo appunto la delibera sicuramente facciamo un piacere a tutto il Paese perché daremo sempre maggiore trasparenza e qualità del servizio. Qui però io devo dirla una cosa perché parliamo sempre di questa benedetta banda, banda larga, banda larga. Allora ci sono due punti, uno sarebbe ora e non capisco perché, proprio il Paese che sta sempre ultimo nel fanalino di coda, non si decide, e questa è una cosa anche vecchia che ha di consumo e da tutti i convegni cerca di dire, non rendiamo questa benedetta banda larga che è così importante il servizio universale. Perché bisogna sancirlo, invece lo sancisce la Svizzera che in confronto a noi, insomma, la Svezia, la Spagna però che è molto più simile a noi, lo ha messo in Costituzione. Allora, noi abbiamo il servizio universale, non è che non c'è internet sul servizio universale, quindi forse non dovremmo neanche fare mirabolanti modifiche costituzionali, dovremmo soltanto andare a rivedere quella parte della trasmissione dati che è prevista a 56k come servizio universale, cioè noi già l'abbiamo oggi. Ogni cittadino ha diritto a 56k. Siccome sappiamo che 56k è anacronistico e non è la banda larga, l'autorità garante forse o qualcuno che deve essere predisposto a questo dovrebbe di volta in volta dirci qual è questo minimo che guarda caso continuerebbe a tornare al discorso che vi facevo prima, cioè il minimo garantito dovrebbe essere il minimo del servizio universale, perché è quello che tutti i cittadini e i consumatori hanno diritto ad avere, se riteniamo che è un diritto sacrosanto alla comunicazione, alla conoscenza, allo sviluppo, alla crescita di questo paese e quindi con la possibilità di usare qualsiasi piattaforma e quindi io non dico che quel minimo garantito deve per forza arrivare in fibra, deve arrivare, poi abbiamo il satellite, abbiamo la fibra, abbiamo la rete in rame, abbiamo il mobile, il WiMAX, abbiamo tutte le tecnologie possibili, quindi su questo io insisto perché credo che il passaggio di anche l'Italia rendere servizio universale internet non gli farebbe male per niente, come forse ha fatto male l'Europa a ritirarsi da questa possibilità, perché evidentemente le lobby hanno funzionato in Europa, l'ha avanzata e come molti credo sapete poi ha ritirato l'idea di far diventare servizio universale e ha demandato ai singoli stati questa capacità di fare. Cos'altro non ha funzionato forse in misura internet che dal 2008 ne stiamo parlando oggi, 2013 come se fosse una grande novità, è la comunicazione, 50.000 utenti che l'hanno usata dimostra un flop, se la conciliazione paritetica l'avessero usata in 4 anni mille persone l'avremmo forse già chiusa e invece sappiamo che è una best practice, è una cosa ben fatta, anzi la dobbiamo migliorare, continuare, svolgere, allora se il prodotto è buono, se ce lo invidiano, se è una cosa fatta anche a tutela del consumatore perché è su quello credo che i consumatori hanno fatto il loro ruolo, è data a disposizione del singolo utente, questo è un passaggio importante perché mi ricordo che nelle riunioni discutemmo tanto perché l'inizio era soltanto lasciamo una misurazione che gestisce chi poi prenderà in mano il sistema, oggi sappiamo che era la fondazione Bordoni, ma noi lì abbiamo preteso che doveva essere un sistema che l'utente a casa sua poteva identificare la velocità e questo credo che sia stato un buon risultato positivo e veramente lungimirante, però dobbiamo in qualche modo dare atto che dobbiamo farlo sapere, noi associazioni, perché è bene proprio voi parlate ma non avete mai pubblicizzato, noi associazioni consumatori tutte, perché poi dopo il settore telecomunicazione e nuove tecnologie ce l'hanno tutte ormai, quindi tutte, non abbiamo dato poco accenno, tra non comunicare lo stampa quando è nato, o lo consigliamo ovviamente ai consumatori che ci chiamano quando hanno problemi di velocità, ma non l'abbiamo enfatizzato, perché l'autorità non ci ha coinvolti nel modo corretto, l'autorità ce l'ha dato lì, fate, noi siamo l'autorità, voi fate, noi non riteniamo che questo è il metodo, il metodo è costruire un progetto insieme, lavorarci insieme e costruire una comunicazione comune, ancora si fa in tempo, anche perché è nato lo speed test di cui non sa niente nessuno o pochissimi, le aziende hanno l'obbligo da delibera di parlare di misura internet ma non parlano dello speed test, attualmente sono fermi a ciò che la delibera prevede e non è che proprio anche tramite i siti aziendali si riesce a trovare subito al primo click questa cosa, comunque c'è ovviamente perché è un obbligo, allora forse se nel tavolo comune che abbiamo in Agicom con le associazioni consumatori si pensa a un progettino per rilanciarlo e farlo sapere veramente a tutti anche usando i sistemi di social network che abbiamo e li abbiamo tutti sia l'autorità che le associazioni, credo che forse facciamo del bene a questo servizio. Dopodiché l'FTP, mi ero preparato un bel pezzo, me l'avete rubato perché so che andrà in porto e quindi va bene, vuol dire che però l'avevamo visto giusto. Sul mobile, attenzione perché io capisco che bisogna anche fare le cose che poi si rifanno più tardi altre perché così si continua a lavorare su un sistema e la cosa continua questo è un sistema italiano, insomma non facciamo subito bene tutto, un po' alla volta così ci manteniamo in piedi il sistema, se andiamo a fare misura internet mobile e non lasciamo fuori l'LTE, perché se no dopo dobbiamo aspettare per rifarlo, perché? Perché c'è anche il surplus di prezzo, quindi misura internet e diventa interessante averlo sul mobile proprio per capire se quello che pagherò di più, perché comunque nella prima fase che durerà un pochino l'LTE, l'ultrabanda sul mobile ce la faranno pagare qualcosina in più, io devo sapere se qualcosina in più è giusto, perché se poi io pago in più e vado ugualmente a 42 Mbps secondo che è già l'offerta che ho oggi al massimo e forse devo fare un reclamo, però se io non ho la comparazione perché misura internet per il momento non se ne occupa, aspettando un altro convegno che gli dica facciamo anche quello delle LTE, questo ci preoccuperebbe, quindi prepariamo subito una delibera e un sistema che già è lungimirante almeno alle tecnologie che conosciamo e che abbiamo. E concludo quindi dicendo che dobbiamo forse, e questa è un po' la cosa che è mancata, una volta che abbiamo fatto un anno e mezzo di riunioni, che ci abbiamo messo anche il nostro tecnico a parlare con tutti gli esperti e tecnici che c'erano, quando si è passati alla produzione del sistema, diciamo dalla stanza dei bottoni le associazioni sono sparite e lo abbiamo anche chiesto, perché lo abbiamo chiesto esplicitamente al tavolo permanente che abbiamo. Sono sparite, non hanno più gestito e questo ha provocato anche questa disaffezione evidentemente, forse se adesso ci rimettiamo e lo mettiamo come uno dei punti importanti anche del tavolo congiunto con l'associazione consumatori, progetto come sviluppare la nuova delibera che ingloba anche la delibera sul mobile, credo che facciamo veramente un servizio a misura internet che è e rimane una bella bellissima Braxprax che dobbiamo far viaggiare e far conoscere perché spero che fra un anno facciamo un convegno a quei 50.000 gli si aggiunge addirittura uno zero, poi che i certificati siano pochi questo è un bene per le aziende, però che se ne facciano tante di misurazione è un bene per tutti. Grazie.